Giovanni De Aurelio, un ragazzo stintinese, ha scritto un libro in cui racconta il suo trascorso di sofferenza e nella vita di tutti i giorni con l'associazione San Domenico Canica aiuta chi vive in situazioni di difficoltà. Vediamo il servizio di Emanuele Floris. Dall'inferno alla rinascita, Giovanni De Aurelio, scrittore e filosofo stintinese, ha avuto un passato difficile da cui è uscito anche attraverso la scrittura e il libro abisso. Un'opera in cui ha fatto confluire in forma poetica le sue esperienze. Dove c'è il mio trascorso personale che è un trascorso burrascoso, dove si tratta ampiamente il tema del vizio, il tema della depressione, il tema del maltrattamento, il tema dell'abbandono e in questo libro molte persone hanno trovato speranza e si sono rapportate a questo libro come se il libro le leggesse non fossero loro a leggere il libro. Adesso il 25enne si occupa di aiutare chi vive in situazioni di difficoltà come quelle superate da lui e per riuscirvi collabora con l'associazione San Domenico Canica. Noi facciamo tour nelle scuole, facciamo sensibilizzazione in molti campi, aiutiamo i ragazzi a uscire dai loro drammi e in questi campi noi ci muoviamo con rispetto e con disciplina. Giovanni vuole lanciare un messaggio che avrebbe voluto, quando stava male, che qualcuno li rivolgesse. Tutti, ripeto, abbiamo il diritto di sopravvivere a noi stessi e sopravvivere a noi stessi vuol dire abbiamo il diritto di rapportarci alla nostra vita e di poterla vivere come quello che è un dono, non un supplizio che si affronta, non come portare una croce, ma come affrontare un cammino che ci accresce e che ci fa diventare uomini o donne.